Ho sempre amato correre. Per me il movimento è vita, io il movimento lo esprimo benissimo nella corsa. Sono affetta dalla nascita da una disfunzione genetica che si chiama sperocitosi, per cui si malconcilia con la corsa lunga. Nel 2010 ho avuto questa forte crisi, ho scoperto di avere questa milza gigantesca che mi requisiva buona parte dei globuli rossi. Non immaginavo che le conseguenze potessero essere così gravi. Stavo talmente male che manco mi veniva in mente di andare a correre. Non riuscivo a stare in piedi a momenti. Non era più vita quella. Per cui il 14 maggio mi hanno operata. Uno dei miei sogni era quello di poter andare agli Olimpiadi. Una delle sfide più grosse è stata quella di rimettermi in piedi. Appena ho potuto ho preso le mie scarpe e sono andata a correre. 10 minuti e me lo ricordo con una gioia incredibile perché mi sentivo veramente libera finalmente. È anche più bello poter sognare, poter dire mi piacerebbe fare questo, questo e quell'altro perché poi piano piano veramente riusciamo poi a realizzarli. Facevo fatica a pensare di poterlo realizzare. Questo è un mio grande sogno. La passione. Senza quella siamo perduti. Insegui il tuo sogno. Non fermarti mai. Non fermarti la bis 6 6 Grazie a tutti.